Avanti così date anche modo ai fotografi di fare le foto, il signor sindaco vuole anche lei dare un bacio che la nostra Miss concederà, la signora glielo concede, non ci sono problemi, uno, ne ha dati due signora, gli avevo detto uno, ancora un applauso, si può accomodare, terzo bacio.